Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Desidero fare a tutti gli amici e i sostenitori della Fondazione Lepanto i migliori auguri per un santo Natale e un felice anno nuovo. Il 2019 che ci chiude è stato un anno intenso che ci ha impegnato nella battaglia culturale in Italia e nel mondo con articoli, libri, conferenze, corsi di formazione per giovani e meno giovani. Siamo stati e siamo presenti anche nella pubblica piazza partecipando a manifestazioni come la Marcia per la Vita e la ACES Ordinata. Siamo un'armata di cattolici militanti che combatte in difesa della Chiesa e della civiltà cristiana ma che trae la sua forza dalla vita soprannaturale. Questo è il nostro presepio e questa è la Mater Incomparabilis, la Madonna che veneriamo nella nostra cappella e a cui raccomandiamo tutti i nostri amici sparsi nel mondo nelle nostre preghiere. Ancora auguri e grazie per il vostro sostegno.